Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del Tg6. L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veria è fiduciosa che l'Abruzzo non venga posto in zona gialla nelle prossime cabine di regia nazionali. I numeri però crescono in maniera preoccupante. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. I nuovi casi Covid in Abruzzo sono ogni giorno di più, ma la situazione non preoccupa molto in regione. Ci sono delle zone dove l'incidenza del virus è più alta che altrove, come nella città di Pescara o nella provincia di Teramo. Ma grazie al sistema di tracciamento, dice al Tg6 l'assessore alla salute Nicoletta Veria, i focolai sono stati circoscritti. Ad ogni modo, rassicura l'assessore, l'Abruzzo non rischia di essere posto in zona gialla. Abbiamo un aumento dei casi in maniera esponenziale, così come tutte le regioni della nostra nazione. Un aumento in modo particolare colpisce l'età pediatrica e quindi una maggiore trasmissibilità del virus, in quanto il contagio poi c'è nell'ambito non solo familiare, ma anche scolastico e relazionale. Un'attenzione particolare in questo momento lo stiamo dando anche in risposta a quelli che sono gli allarmi che la cabina di regia, che a livello nazionale saranno inoltrati, in quanto bisogna aumentare l'attenzione, ma non solo, penso che saranno prese delle decisioni di restrizioni degli ambiti operativi, sociali, da un punto di vista nazionale. Noi non rientriamo ad oggi tra quelle regioni maggiormente colpite. Per far scattare la zona gialla occorre che l'incidenza del virus superi i 50 casi per 100.000 abitanti. Soglia questa che in Abruzzo attualmente è di 186, ampiamente fuori del limite. Ciò che scongiura le restrizioni però è il tasso d'occupazione negli ospedali, la cui soglia è fissata al 10% per quanto riguarda le terapie intensive e al 15% per l'area non critica. In quest'ultima è occupato il 9% dei posti letto. Ma proprio nella giornata di ieri il tasso d'occupazione in terapia intensiva è cresciuto. Qui è occupato un letto su 10 ed è quindi raggiunta la soglia della zona gialla. Se la tendenza dovesse confermarsi, le restrizioni potrebbero arrivare nel giro di poche settimane. Le istituzioni locali possono applicare misure più severe rispetto a quelle imposte da Roma. In Abruzzo non stiamo valutando nulla di tutto ciò, ha concluso la Verì. Non abbiamo indicatori particolari da ricorrere a ulteriori restrizioni. Anzi, come ho già detto, i nostri indicatori sono al di sotto di quelle che è la preoccupazione della media nazionale. Quindi per il momento assolutamente non prenderemo alcune iniziative. E sono 179 nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 2.389 tamponi molecolari e 7.290 test antigenici. Risultato positivo dunque l'1,84% dei campioni. I casi attivi tornano dopo mesi sopra quota 7.000. Stabili ricoveri dopo il brusco aumento di ieri. Tre i decessi recenti, 11 quelli degli ultimi sette giorni. Il bilancio delle vittime sale così a 2.620. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 94 anni. Gli attualmente positivi sono 7.012 più 30 rispetto a ieri. 132 pazienti, dato invariato rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale. In area medica i 17, anche questo dato invariato, sono in terapia intensiva. Mentre gli altri 6.863 più 30 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. I tre decessi riguardano persone di età compresa tra 59 e 83 anni. Una in provincia di Teramo, due in provincia dell'Aquila. I guariti sono 146 nelle ultime 24 ore. Degli ultimi casi 70 provengono dalla provincia dell'Aquila. 8 da quella di Chieti, 16 da quella di Pescara e 83 da quella di Teramo. Due sono di fuori regione. Alla luce degli ultimi dati, in Abruzzo il tasso di occupazione dei posti letto è al 9% per le terapie intensive e al 10% per l'area non critica a fronte di soglie di allarme, rispettivamente del 10 e del 15%. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti continua ad aumentare e sale a 195. Soglia limite di 50. A livello territoriale i numeri più alti continuano ad essere quelli del Teramano. L'incidenza è 232, segue con 188 il Pescarese in rapido peggioramento. Poi ci sono l'Aquilano, 182, che pure peggiora rapidamente, e il Chietino con 176. Cambiamo pagina e ora apriamo la parentesi molto ampia dedicata alle elezioni provinciali. All'indomani dell'annulamento delle elezioni a Chieti, dove sono state scambiate le schede per 16 comuni, il centro-destra si prepara per un ricorso al TAR. Per prezzità sono state espresse sul ritorno al voto previsto per giovedì. Selenia Secondi. Lo scorso sabato, per eleggere il nuovo presidente della provincia di Chieti, si sono recati a votare 986 amministratori comunali dei 104 comuni della provincia di Chieti. Il voto si esprime per fasce distinte per colore, ad ogni fascia un diverso colore di schede elettorale. La votazione però è stata annullata quando ci si è accorti che le fasce di due comuni sono state invertite. Agli amministratori delle città in fascia rossa, quelle cioè da 10.000 a 30.000 abitanti, sono state consegnate infatti le schede arancioni che dovevano essere utilizzate per i comuni da 3.000 a 5.000 abitanti e viceversa. Noi stiamo mettendo in discussione il decreto che è stato emanato dal presidente facendo funzione e dal segretario generale perché il voto è stato sicuramente alterato, perché sono state scambiate le schede in cui c'è il voto ponderato, per cui questo voto va a incidere sia per l'assegnazione dei seggi delle singole coalizioni, sia all'interno delle singole coalizioni ci possono essere consiglieri e candidati che vengono penalizzati. Avete fatto una richiesta di accesso agli atti stamane? Abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti per capire quante sono le schede contestate e quali sono le schede contestate, ci è stato risposto verbalmente che gli atti sono segretati, abbiamo formalizzato la richiesta, più tardi ci presenteremo per avere gli atti, se gli atti non ci verranno consegnati saremo purtroppo costretti a chiamare le forze dell'ordine per fare attestare che ci vengono negati gli atti e poi presentare nel pomeriggio al massimo domani mattino e ricorso al TAR perché tra le anomalie che registriamo il fatto che domenica sera si decide, loro decidono loro, quindi sostengono che c'è un voto alterato e rinviano le votazioni addirittura al 23, dopo 4 giorni non ci sono neanche i tempi per convocare gli elettori a ricarsi al seggio. Passaggio delle consegne ufficiale questa mattina in provincia Pescara tra l'uscente Antonio Zaffieri e il neopresidente Ottavio De Martinis che ha annunciato a breve la convocazione di un tavolo sullo stato delle strutture scolastiche. Il servizio è di Paolo Renzetti. Ottavio De Martinis raddoppia sindaco di Montesilvano, da oggi ufficialmente a questo punto anche presidente della provincia di Pescara, una grande soddisfazione ma possiamo dire De Martinis anche un successo quasi annunciato. Una grande soddisfazione, sicuramente tanta responsabilità sulle spalle, è vero che la tornata era il risultato, era abbastanza scontato ma la cosa che fa piacere è che è andato al di sopra delle aspettative perché al di là dei nostri voti, quindi i voti di aria naturale e centrodestra, sono arrivati anche dei voti da parte di altri amministratori, probabilmente quelli del Polo Civico e questo fa piacere perché hanno rinvenuto in me una persona in qualche modo che li potesse rappresentare e farò di tutto per dare a loro ma soprattutto ai cittadini del territorio le risposte che attendono. La provincia ha come obiettivi principali in modo particolare quelli legati alla viabilità ma anche quelli legati alle scuole. Come detto nei giorni scorsi non mi limiterò ovviamente a questo ma ci farò anche da quello che intendo fare anche da collante da tutti i territori al fine di creare quella sinergia e quella forza che possano dare alla provincia di Pescara quell'attrattività, quella funzionalità e perché no quella forza anche da un punto di vista turistico e da subito dopo le feste natalizie inizierò un giro in tutti i comuni della provincia al fine di valutare le esigenze di ogni sindaco, di ogni amministrazione e di poter tessere una rete che possa essere funzionale e importante nel futuro. La cosa che mi fa piacere è avere una squadra molto molto competente fatta di tanti bravi amministratori, tra cui tanti sindaci e quindi quello che ritengo è che invece la squadra che è stata composta è molto importante ma anche coloro che non sono entrati e che ho sentito nei giorni scorsi daranno il loro apporto benché non in consiglio provinciale. Io intendo essere il Presidente di tutti e quindi anche di coloro che hanno contribuito con i loro voti alla mia elezione, soprattutto loro e quindi sarà un gioco di squadra, un gioco di squadra che penso e ritengo si debba allargare a tutte le forze al di là dei colori politici perché il territorio è di tutti e quindi penso che il Presidente debba fare il bene di tutti e per questo motivo coinvolgerò anche coloro al di là degli scontenti delle liste, anche coloro che non sono entrati o che fanno parte di altri schieramenti politici. E finiscono con un 7 a 5 le elezioni provinciali di Teramo a favore dell'attuale Presidente Diego di Buonaventura. La lista dei partiti di centrodestra ottiene tre seggi, la civica Renew Teramo conquista quattro seggi e il centro-sinistra unito elegge cinque consiglieri. In questa tornata elettorale nessuna donna è stata eletta in consiglio. Per Di Buonaventura l'assenza di una consigliera in assemblea rappresenterà un forte limite. Tania Bonnici Castelli. Elezioni provinciali di Teramo. Finisce 7 a 5 a sostegno del Presidente Diego Di Buonaventura ma in consiglio non viene eletta nemmeno una donna. Vediamo nel dettaglio il voto. La lista ufficiale dei partiti di centrodestra alla forza del territorio di Buonaventura Presidente ottiene tre seggi. Il centro-sinistra unito con la Casa dei Comuni elegge cinque consiglieri, nessuno dei Cinque Stelle e loro alleati. Ma a stupire è il risultato della lista civica Renew Teramo sostenuta dall'ex assessore regionale Paolo Gatti in tandem con Giulio Sottanelli, attuale coordinatore in Abruzzo di azione che conquista quattro seggi. Centrodestra e civici dunque alleati in consiglio provinciale per i prossimi due anni? Per il Presidente della Regione Marco Marsiglio il risultato elettorale della provincia di Teramo conferma un rapporto solido tra questi due schieramenti. Ma è Giulio Sottanelli a prendere subito le distanze e a ricordare che Renew Teramo è un movimento civico assolutamente autonomo rispetto al centrodestra e senza collegamenti con di Buonaventura. Dunque il futuro è fluido e incerto. Entrano in consiglio provinciale per la lista dei partiti di centrodestra Luca Frangioni, già vicepresidente uscente, il più votato con 7.455 preferenze, Ivan Costantini, sindaco di Giulianova e Gennarino di Lorenzo, consigliere uscente. Per la lista civica Regno Teramo, Lanfranco Cardinale, consigliere uscente, Ennio Pavone, Luca Corona e Giovanni Luzzi, anche lui riconfermato. Per la Casa dei Comuni, che siede sui banchi della minoranza, confermati gli uscenti, Mauro Scarpantonio e Graziano Ciapanna. Entrano Vincenzo Dercole, sindaco di Castiglione e Serremondo, Luca Pilotti e Ernesto Iezzi. Nota dolente di queste elezioni. Nessuna donna farà parte del nuovo consiglio provinciale di Teramo, poiché nessuna lista ne ha eletta una. Mi dispiace molto che non sia stata eletta una consigliera, commentato il Presidente di Bonaventura, che ha aggiunto, ritengo che l'assenza di una donna in assemblea rappresenti in generale un forte limite. Un risultato tristissimo, infatti, che va contro la storia stessa dell'amministrazione provinciale Teramana, tra le prime in Italia nel 1987, a distituire proprio una commissione per le pari opportunità. Un vanto per questa provincia, almeno fino ad oggi. Adrigreen è un progetto europeo che riguarda Italia e Croazia, tra le infrastrutture coinvolte anche l'aeroporto d'Abruzzo. L'obiettivo è quello di ridurre le emissioni e diventare sempre più green. Vediamo il servizio. Una nuova batteria ad energia elettrica manterrà in funzione gli aerei che atterrano l'aeroporto d'Abruzzo senza dover più ricorrere all'inquinante motore diesel. Oggi presentiamo un GPU, che è un alimentatore 100% elettrico. Va a sostituire un alimentatore carburante diesel che mantiene in vita gli aeroplani a motori spenti. Questo prima avveniva attraverso questa attrezzatura a diesel. Oggi abbiamo la possibilità di avere questa mega batteria 100% elettrica. Si tratta del progetto Adrigreen, che vede coinvolti i porti aeroporti italiani e croati ed è finanziato dall'Unione Europea, con l'intenzione di rendere i trasporti sempre più ecosostenibili. Noi siamo quelli più inquinanti, per cui dobbiamo andare verso una direzione carbon free e queste sono tutte iniziative e azioni volte ad arrivare a una mobilità sostenibile. Non è la prima perché il nostro scalo si è già dotato di altri mezzi di traino 100% elettrica e non sarà l'ultima perché siamo anche pronti a copartecipare e cofinanziare altri progetti del genere. Il numero degli aerei che giungono all'aeroporto d'Abruzzo è stato limitato dalla pandemia. Se l'anno prossimo confermassimo le rotte del 2021 senza ulteriori ostacoli, ha dichiarato il presidente Catone, questo sarebbe già un bel traguardo. I numeri sono tremendamente viziati dalla pandemia. Abbiamo avuto un'ottima ripartenza sulla Summer 2021 e una flessione negli ultimi 30-40 giorni. Io mi riterrei soddisfatto se riusciamo a consolidare tutti i voli e le frequenze presenti nella stagione 2021 e magari con qualche sollievo dalla pandemia migliorare i numeri dei passeggeri. Al via la demolizione dei palazzi Adamoli e Salvoni. Inizia il recupero del Teatro Romano. E' un giorno storico per la città di Teramo che tra 150 giorni vedrà tornare al suo splendore il più importante bene archeologico d'Abruzzo. Un teatro in pietra del II secolo d.C. capace di contenere mille posti. Un progetto atteso dal 1937. Vediamo. E' un giorno storico per la città di Teramo e per l'Abruzzo tutto. E' stato appena aperto il cantiere per l'abbattimento di Palazzo Adamoli e di Palazzo Salvoni. i due edifici costruiti sopra il Teatro Romano nel centro storico della città. Le due costruzioni verranno demolite per far tornare al suo splendore il più grande bene archeologico dell'Abruzzo. Un teatro in pietra dell'età augustea fatto costruire dall'imperatore Adriano nel II secolo d.C. capace di contenere mille persone e che è ancora tutto intero. Un sito fantastico che tornerà ad essere come era entro 150 giorni. Si era in attesa di questo momento dal 1937, quando l'allora Ministro della Cultura Popolare Giuseppe Bottai decise che quei due palazzi dovevano sparire, finanziandone l'abbattimento. Con la Seconda Guerra Mondiale il progetto si è arenato fino ad oggi. Un risultato che si deve anche a chi non ha mai smesso di sperare e di battersi come l'Associazione Teramo Nostra e i radicali di Marco Pannella. E poi all'attuale sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, che ha messo al primo posto del suo mandato il rendere di nuovo fruibile il teatro romano. Ci siamo, parte la rifunzionalizzazione del nostro teatro romano. Un intervento strategico, un bene fondamentale, identitario per la città di Termo, ma non solo. Si tratta del recupero di un bene culturale fondamentale per l'intero territorio regionale, che rende competitiva la nostra città e l'intera regione, tant'è che il finanziamento è stato riconosciuto anche dal Ministero per il Sud, dell'Agenzia per la coesione. Segno di quanto sia rilevante il recupero del teatro romano per la rinascita di Teramo e dell'intera regione Abruzzo. Da tanto tempo, da troppo tempo si attendeva questo momento. Un momento che è stato più volte annunciato, atteso, auspicato. Oggi finalmente è realtà. Con la rimozione dei due palazzi che oggi inauguriamo in termini di cantiere, liberiamo l'area del teatro e ci prepariamo ad un recupero che consentirà a questo spazio, a questo luogo di tornare ad essere fruibile, di tornare ad essere vissuto, di ospitare eventi culturali che si inseriscono all'interno di una riqualificazione più ampia di un'area che sarà degna di una città straordinaria, di una città piena di bellezze come Teramo, città capoluogo è. I due palazzi Adamoli e Salvoni, che saranno smontati da oggi a piccoli pezzi, sono stati pagati 400 mila euro. La demolizione ne costerà 800 mila, mentre per l'intero recupero del teatro romano di Teramo e la zona archeologica circostante si spenderanno 23 milioni di euro. In vista del Natale si ripete all'ospedale di Pescara l'iniziativa di soviarità del SIAP, il sindacato dei poliziotti, che ha portato doni ai degenti, ma anche nuove attrezzature, il servizio. Babbo Natale è arrivato all'ospedale di Pescara e ha portato attrezzature, cesti, materiale didattico e giocattoli ai bambini che trascorreranno le festività nei reparti del nosocomio. A vestire il cappello appunta quest'anno il SIAP, il sindacato italiano appartenente di polizia, che ha portato i doni delle aziende del territorio. L'iniziativa che è partita anche l'anno scorso è stata fatta dalla segreteria di Teramo, quest'anno l'abbiamo replicata, abbiamo coinvolto più aziende del settore abruzzese che hanno accolto con favore questa cosa e quindi è stata più ampia e abbiamo distribuito doni a tutti quanti dei genti dei piccoli reparti, comprese le mamme che devono partorire. È stata accolta benevolmente dall'ospedale e da tutte le autorità che sono state già presenti con noi e hanno dato risonanza a questo evento. Siamo felici di donare un sorriso ai bambini che si trovano in questa situazione purtroppo sanitaria in questo momento, in modo da trascorrere delle feste più serene. Che tipo di doni? Vedo qui dei giocattoli, dei cesti? Abbiamo fatto, per quanto riguarda i bambini, ci sono giocattoli e materiale didattico che vanno dagli album, colori, penne e altre cose ludiche, mentre invece poi ci sono dei doni specifici per ogni reparto, soprattutto materiale per le scuole, perché all'interno di ogni reparto ci sono delle scuole dove delle maestre e delle psicologhe sostengono i bambini durante la degenza, ci sono dei buoni per gli acquisti in cartolibreria di materiale specifico, in più ci sono stati anche dei doni nei reparti come nella neonatologia, proprio sanitari, su richiesta dell'ospedale, su cose cui erano più carenti e noi siamo riusciti ad averle, grazie anche al contributo delle aziende che hanno partecipato. Pagina dello Sport, Serie C, terza vittoria consecutiva ieri per il Pescara, che grazie al 1-0 di Imola è salito al quarto posto in compagnia dell'Ancona Matelica, che sarà il prossimo avversario mercoledì nell'ultimo turno del 2021. Vediamo il servizio. Terza vittoria di fila per il Pescara, si gioca di fronte a mille spettatori con numerosa rappresentanza ospite. Le fasi iniziali di gara vedono i biancazzurri propositivi con Pompetti, che al quinto chiama la parata centrale, i portieri Rossi al diciassettesimo però è turchetta per i locali ad alzare la sfera di poco sopra la traversa, quasi dal limite dell'area di rigore. Brivido per il Delfino, che continua però a fare la partita pur senza brillare. Imolese gioca in velocità, creando però in contropiede qualche patema a Memushai e compagni. Il match si mantiene piuttosto equilibrato e povero di evoluzioni con i due portieri Rossi e Sorrentino mai seriamente impegnati. Trascorrono i minuti, ma in campo non accade praticamente nulla, con i locali più pimpanti rispetto alla prima parte di Contesa. Di occasioni però neanche a parlarne, con lo 0-0 logica conseguenza dopo 46 minuti di gioco. Nella ripresa al quarto, pronti via e palla a Ferrari, che dopo un lancio da 25 metri in area conclude trovando una diviazione di Angeli con la palla, che finisce alle spalle di Rossi. Pescara in vantaggio e per l'attaccante Italo-Argentino arriva così l'ottava rete della stagione. Fanno feste tifosi ospiti giunti in Emilia. Il Pescara ci crede e prova a raddoppiare. Al dodicesimo arriva ad un passo dal 2-0 con Dursi, che in area in sospetto fuorigioco mette a lato. Al quattordicesimo ci prova Clemenza, che sfiora la traversa. Al ventunesimo doppia occasione emiliana, prima con il salvataggio di Sorrentino e poi con la conclusione di Lombardi, che fa carambolare la palla sul palo esterno. Auteri vede qualche problema a centrocampo e dopo aver sostituito Clemenza con Chiarella, al ventottesimo manda sul terreno di gioco Giambò per Ferrari. Al trentaquattresimo buona opportunità per il giovane attaccante del Pescara, che in area calcia sbilanciato mettendo la sfera a lato. Nel finale di partita spazio a De Marchi e Rauti al posto di Dursi e Memushai con i biancazzurri a tenere il vantaggio in un finale di gara, che vede il Pescara prima rischiare al novantunesimo con il tiro a lato di Luca Lombardi e poi sprecare nel recupero al novantaquattresimo con la doppia parata di Rossi e poi ancora con una opportunità fallita al novantacinquesimo da De Marchi e compagni. Alla fine arriva la vittoria, una vittoria meritata per il Delfino che mercoledì giocherà l'atteso derby in casa dell'Ancona Matelica. Crolla il Teramo in casa della capolista reggiana in una gara senza storie. I biancorossi dopo le cinque reti subite in Emilia hanno oggi la peggior difesa del girone e preoccupa anche il futuro, il servizio di Jacopo Forcella. Una gara nemmeno iniziata e già finita, San Berardo non dà una mano ad un Teramo distrutto da una reggiana che avrebbe potuto segnare anche di più di quanto non abbia già fatto nel gelido pomeriggio del MAPEI Stadium. Ma iniziata perché serviva una prestazione super e invece il diavolo resta negli spogliatoi sotto tutti i punti di vista e 12 minuti bastano a Lanini per aprire e chiudere ogni discorso. L'1-0 in apertura al nono è lo specchio del momento, Trascianebois, novità dal primo minuto come Birligè e Chiere Mateng sono fulminati da Lanini. Col suo sinistro che batte Perucchini, anche lui poco attento, tre minuti dopo quando ancora Lanini lo buca col destro sul primo palo, la gara in pratica finisce qui. Birligè al 26esimo arriva a Debole d'Aventuri ma la reggiana è un fiume in piena. Aziosmanovic al 27esimo atterra in area Rosafio ma andando sul dischetto Zamparo il cui sinistro però spiazza Perucchini ma finisce sui tabelloni pubblicitari. Guidi toglie Chiere Mateng per Bernardotto prima dell'incrocio dei pali centrato da Rosafio col sinistro telecomandato. Zamparo sulla ribattuta dimostra che per lui e solo per lui non è serata. Malotti tentano conclusione al 38esimo respinta e allora la reggiana accelera e trova il tris forse in offside col piazzato di Cigarini doppiamente corretto da Contessa prima e Cremonesi in maniera vincente poi. Lanini avrebbe il poker in canna ma lo manca a questione di centimetri. Il destro alto di Birligè apre la ripresa che Cremonesi, sempre lui, sigilla col 4-0 da corner servito da Cigarini. Da quel momento in poi è solo Accademia. Lanini manca il 5-0 in contropiede. I cambi di Guidi, Viero, Pinto e poi Rillo, servono solo per evitare un naufragio che però è già nei fatti. Ma che Sorrentino, entrato per Rosafio, potrebbe rifinire con un destro che timbra la traversa. Rillo impegna Venturi nel finale. Piacentini salva la disperata sempre su Sorrentino, prima della cinquina firmata da Neglia. Diavolo peggior difesa del raggruppamento con 35 gol presi. Se Guidi voleva una prova gagliarda, no, a Reggio non è arrivata. Che qualcosa si sia inclinato in questo gruppo è ormai evidente. Gli ultimi 90 minuti del 2021 contro la Virtus Centella serviranno per provare a salvare il salvabile, che però non è più molto. E piove sul bagnato in casa Teramo. Oggi le decisioni del giudice sportivo che letta la relazione redatta dai componenti della Procura federale concernente quanto accaduto al termine del match di Reggio Emilia. Allora quando i calciatori del Teramo si sono recati sotto la tribuna nord occupata dai loro tifosi, osserva quanto segue la fattispecie normativa evocata nella relazione in oggetto, ovvero le disposizioni di cui l'articolo 25 commi 9 e 10 del codice di giustizia sportiva e la descrizione dei fatti ivi contenuta rendono opportuno disporre ulteriori accertamenti a cura della Procura federale in ordine alla specificazione ancora più puntuale delle frasi e dei comportamenti dei tifosi nell'occasione. Alla conseguente reazione dei calciatori del Teramo, alla specifica individuazione di essi, alla presenza di dirigenti del Teramo sotto la curva in parola e in particolare del delegato ai rapporti con la tifoseria, al complessivo comportamento tenuto dallo SLO nell'occasione e dalla sua eventuale interlocuzione con i tifosi e o con altri soggetti istituzionali ad ogni altra circostanza utile ai fini del decidere. Invita la Procura ad espetare e a trasmettere all'ufficio i suddetti accertamenti entro il termine di 30 giorni a far data dalla pubblicazione del presente comunicato. Poi c'è stata anche la squalifica per un turno al calciatore Arrigoni per l'espressione blasfema ed ammenda al Teramo di 500 euro. E ora la Serie D con il derby dell'Angelini vinto dal Pineto contro il Chieti per 2 a 1. Con un blitz nel finale il Pineto espugna l'Angelini e ritrova la vittoria giudicandosi per 2 a 1 il derby contro il Chieti. Una sconfitta che sta stretta ai Teatini che dopo avergli acciuffato il pari tengono in mano il pallino del gioco nella ripresa per capitolare solo in pieno recupero. Nel Chieti rientra Aquilanti in difesa ma non c'è Pietrantonio influenzato. Lucarelli inserisce Berna a centrocampo dal primo minuto. Pomante deve rinunciare a Mesisca squalificato e fa debuttare in difesa dal primo minuto il classe 2004 Capaldo e ripropone il tridente d'attacco con Minnozzi, Cardella e Barlafante. Primo tempo equilibrato e giocato a ritmi non altissimi dalle due compagini. Dopo una prima fase di studio la gara si accende al 22esimo. Primo acuto di marca ospite Pezzotti serve Minnozzi che da fuori fa partire la bella girata di poco a lato. Immediata la risposta teatina al 25esimo. Orlando dalla destra serve Fabrizio a centro area ma l'attaccante chiuso da Bosco non riesce a girarsi e l'occasione sfuma. Ancora Chieti al 26esimo sempre Orlando fa partire una conclusione angolata che costringe Mercorelli a salvarsi in due tempi. Quindi Fabrizio da fuori impegna ancora l'estremo pinetese un minuto più tardi. Ma gli ospiti non ci stanno e sfiorano il vantaggio in due occasioni. Al 36esimo percussione in area di Della Quercia dalla destra si frappone con efficacia Fusco che anticipa in angolo. Occasionissima un minuto più tardi per Pezzotti che con un colpo di testa ravvicinato centra in pieno l'incrocio dei pali. E il preludio al vantaggio biancazzurro che si concretizza al 42esimo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo barlafante dal limite trova la coordinazione e insacca la girata sotto l'incrocio per l'1 a 0 in favore del Pineto con cui si va a riposo. Avvio di ripresa subito avvincente dopo nemmeno un giro di lancette Pineto pericoloso con un diagonale di Pezzotti deviato da Fusco in corner. Sugli sviluppi dell'angolo l'estremo teatino esce però in maniera avventata il colpo di testa di Minnozzi a porta vuota e il salvataggio di Aquilanti sulla linea a tenere a galla il Chieti. E sulla ripartenza i neroverdi di casa pareggiano i conti. Al secondo minuto di Mino scarica il diagonale ad incrociare all'angolino e supera Mercorelli portando il risultato sull'1 a 1. Insiste la formazione di casa che al 17esimo va vicinissima al vantaggio punizione di Mele in area per Fabrizio e gran miracolo di Mercorelli che disinnesca da due passi e salva il Pineto. Dopo l'1 a 1 gli ospiti accusano il contraccolpo e spariscono dal campo. Il Chieti cresce e fa la partita senza tuttavia riuscire a concretizzare il possesso. Al 35esimo Susi mette in mezzo dalla destra per Verna che però chiuso non riesce a trovare il tap in vincente. Quando il pareggio sembra ormai cosa fatta nel finale beffa per il Chieti che al 48esimo in pieno recupero incassa la rete del definitivo 1-2 per il Pineto che in contropiede sigla il gol della vittoria con Del Mastro che in area anticipa tutti e spedisce la sfera in fondo al sacco regalando ai biancazzurri una vittoria di vitale importanza che mancava dallo scorso 7 novembre. 5 a 0 contro il Bastogirardi. Sconfitta immeritata per il Chieti che soprattutto nel secondo tempo ha provato a fare la partita e che chiude il 2021 senza riuscire a sfatare il tabù dell'Angelini. L'appuntamento con la vittoria davanti al pubblico di casa è rimandato all'anno prossimo ma mercoledì si torna subito in campo per l'ultima gara prima della sosta natalizia. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera ore 21 con replay la trasmissione di Enrico Rocchi fa ripuntati sulla vittoria del Pescara a Imola e poi sul prossimo turno quello di mercoledì la trasferta sul campo dell'Ancona Materi. Il Tg6 invece torna con la sua terza edizione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata. 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 Grazie per l'attenzione e buona serata.